Controlli, ispezioni, denunce e segnalazioni da parte di polizie e carabinieri a Gela nell'ambito di servizi sul territorio finalizzati alla prevenzione dei reati, fari accesi nella zona della Movida, in centro storico e sul lungomare. I militari dell'arma hanno eseguito oltre 97 controlli su persone e 56 su veicoli, riscontrando 16 infrazioni. Due gelesi, una ragazza di 23 anni ed un giovane di 25, sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza perché trovati con tasso alcolemico pari al doppio dei limiti consentiti dalla legge. Alla 23enne, neopatentata, oltre al ritiro del documento di guida, si è provveduto al sequestro del veicolo. Nel complesso sono stati inoltre sequestrati tre veicoli, ritirati quattro documenti di guida e circolazione e contestate infrazioni che vanno dal mancato utilizzo del casco a bordo di motoveicoli al mancato utilizzo delle cinture, alla mancata copertura assicurativa alla guida in stato di ebrezza. Complessivamente sono state elevate contravenzioni per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro. E gli agenti del locale commissariato hanno controllato 600 persone e passato ai raggi X 283 veicoli. Otto le contravenzioni elevate al codice della strada. Esaminate le posizioni di 34 agli arresti domiciliari, di 27 sorvegliati speciali e di 3 liberi vigilati. C'è un arresto, si tratta di Emilio Massimiliano Liparoti, 22 anni. Deve scontare sei mesi e quattro giorni in carcere per furto in abitazione o furto con strappo in concorso con altri, commesso a Niscevi nel 2013. L'ordine di esecuzione della carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale Ordinario di Caltagirone. Sette minorenni extracomunitari sono stati denunciati per danneggiamento. Una minorenne gelese deve rispondere di furto aggravato e un uomo di 45 anni è accusato di lesione personale.